Sabato 2 giugno alle ore 22 al Bar Lucky Sport di Pieris le canzoni di Vasco con Allarme Rossi Rock Band dalle 19 a rosticini originali abruzzesi. Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Gorizia 7, il nostro appuntamento settimanale con gli approfondimenti dall'Isontino. Vi presento subito l'ospite di oggi, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Bentornato da noi. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno ai tanti telespettatori. È vero, sono in tanti a seguirci e abbiamo piacere di averla nuovamente ospite nei nostri studi per parlare proprio della città di Gorizia. A cominciare da una delle emergenze proprio delle ultime ore, oddio degli ultimi mesi diciamo così per quanto riguarda il Corso Italia, Corso Italia, Corso Verdi. Il problema che ha così preoccupato molti commercianti ma anche molti cittadini di questi lavori che sono praticamente infiniti. Non si risolve questa questione però adesso sembra essersi sbloccata la situazione, è vero? Sì, grazie al cielo, grazie al cielo sì. Ahimè tempi come giustamente ha detto lei assai lunghi. L'8 maggio scorso doveva essere il termine ultimo entro cui tutta l'opera dei controviali, la riqualificazione dei controviali doveva essere ultimata. Invece a noi ciò non è accaduto. Solo che nel diritto privato quando un cittadino vuole fare qualcosa va a tirar fuori il portafoglio, l'acquista se non è soddisfatto torna indietro e li restituisce. Ecco, ahimè nel diritto pubblico un sindaco perciò un comune deve comportarsi in modo diverso. Ecco le ragioni per cui non abbiamo potuto fare quello che diversamente un privato appunto nel privato avrebbe potuto. Se Dio vuole, nel vero senso della parola, oramai questo aspetto dovrebbe essere chiuso. Domani o dopodomani più tardi dovrebbero partire i lavori che consentiranno di rimuovere la recinzione, l'orribile antiestetica recinzione di colore arancio. Sarà messo in sicurezza quel tratto che oggi è un cantiere aperto nel vero senso della parola. Verrà messo del materiale sul quale oltre che poter camminare si potranno appoggiare i tavolini, le sedie e perciò almeno gli esercenti perché quello che interessava a noi non era mettere in sicurezza il comune, perché il comune comunque sarebbe stato in sicurezza. Il timore mio era dover tenere un cantiere con battaglie giudiziarie in tribunale, un cantiere aperto in queste condizioni per due anni o tre anni. Questo è stato evitato grazie al cielo appunto e perciò io credo che nell'arco di 4-5 giorni potremo ritornare alla quasi normalità. Poi il resto del lavoro verrà nuovamente appaltato e ci metteremo d'accordo per quanto riguarda il calendario dei lavori con gli esercenti per fare in modo che sia il minore possibile il danno arrecato alla loro attività commerciale. Ecco, tante cose si stanno muovendo in questo periodo a Gorizia, anche sul fronte proprio dello sviluppo economico, dello sviluppo del turismo, del commercio. Grande parte in tutto questo ha il vostro bellissimo castello che sempre più viene valorizzato, no? Ci sono dei progetti proprio appositi per valorizzare ancora di più questo bellissimo castello? Certo, grande castello, bel castello, grandi progetti, bei progetti. Verranno realizzati tra adesso e il 2020, complessivamente sono tanti. Si parte da una considerazione che il castello di Gorizia è il luogo più visitato dai turisti. Registriamo oggi sull'ordine dei 40.000 biglietti staccati all'anno e il mio obiettivo è quello a fine del mio mandato di arrivare a 80.000, cioè raddoppiare il numero di turisti, che è un traguardo estremamente impegnativo. Però le condizioni ci sono tutte. Innanzitutto grazie al sindaco Romoli abbiamo riqualificato l'ambiente del castello con una pavimentazione stupenda che naturalmente invoglia anche la passeggiata in castello. Entro la fine del prossimo anno, se non vi saranno altri intoppi, sarà completata la cosiddetta salita al castello, perciò una sorta di trenino con la grimaliera che condurrà in due fermate. Una è fermata nel borgo castello, la seconda è fermata direttamente all'interno del castello, di fronte a Porta Salcano, perciò a 20 metri dalla biglietteria. Anche questa è una storia di venti e dà, una storia molto lunga, ma la completeremo. Assolutamente, assolutamente sì. Fine del 2019, se non vi sono altri intoppi. Nel momento in cui sarà perciò utilizzato e realizzato questo nuovo accesso importante della salita al castello, noi contiamo di aver realizzato entro la primavera, perciò l'estate successiva, due importanti strutture del castello che tanti anni fa esistevano. Mi riferisco al Bastione Fiorito, un luogo eccezionale dove poter trascorrere le sere estive, anche quando fa caldissimo in città, di sopra rammento sempre una leggerissima brezza piacevolissima dove poter consumare, bere un aperitivo, mangiare un qualche cosino non impegnativo, sentire un po' di musica senza danneggiare i cittadini. Una volta si creava rumore e con un'altra ragione per la quale era stato chiuso, ma quando la tecnologia imponeva grandi casse acustiche per produrre il suono. Oggi con tanti piccoli emettitori nel vero senso della parola si riesce perciò a dagli etari presenti senza disturbare il vicinato, ma tante altre cose verranno realizzate. Il teatro tenda, una bellissima struttura da utilizzare per appuntamenti pubblici, dal teatro, cinema, spettacolo, altri punti di altra natura, è sempre da realizzare nel 2000 o quantomeno completare nel 2020. Importante sarà il momento in cui, ci auguriamo sia fra pochissimo tempo, la regione finalmente passerà anche la gestione dei musei provinciali, appunto una volta appartenenti quando c'era la provincia, all'ente provincia, li passerà finalmente al comune di Gorizia. Noi intendiamo, come già annunciato in diverse circostanze, intendiamo trasferire questi musei della Grande Guerra presso il Museo Santa Chiara, in centro a città, anche perché oggi oggettivamente è sacrificato, non ci sono spazi adeguati a disposizione. Noi intendiamo perciò realizzare un nuovo museo con una parte al piano terra molto importante, multimediale, che possa perciò attrarre e far toccare con mano quasi, con una terza dimensione, con le tecnologie che oggi ci sono consentite, far toccare con mano ai visitatori quello che, o quasi con mano, quello che effettivamente era il dramma, nel vero senso della parola, della Grande Guerra. Perciò non una Disneyland della Grande Guerra, per il rispetto degli oltre 600 mila caduti italiani, ma proprio per rendere più reale possibile attraverso appunto queste tecnologie e anche la realtà aumentata o realtà virtuale, che dire, si voglia. E' un percorso didattico, no? Assolutamente. Però è assolutamente non noioso, non approccio moderno. E a proposito di percorso didattico, grazie a queste sue, perché me ne ero scordato, noi entro quest'estate, perciò al più tardi, all'inizio dell'autunno, avremo realizzato un importante supporto multimediale in Castello, ci saranno 100 tablet che consentiranno a tutti di visitare, senza neanche un euro di spese in più, capiamoci, si accede al castello di Ingorizia con 3 euro in mezzo, cioè il costo di un, si può dire, non è pubblicità, di un app per lo spritz, uno o meno, uno accede al castello. Avrà anche questa tecnologia. Tutti i locali del castello, tutti i luoghi del castello saranno visitabili, perciò anche virtualmente ci sarà la possibilità di approfondire la conoscenza su ogni quadro, su ogni luogo, il vedere come una volta si svolgeva la vita di corte all'interno del castello, ci saranno percorsi diversi, percorse per i bambini, ad esempio sarà quello di giochi all'interno del castello, attraverso i quali rappresentare loro la storia, perché un ragazzo di 7-8 anni non possiamo utilizzare lo stesso linguaggio che generalmente si trova all'interno delle videoguide dei musei, quattro linguaggi diversi a seconda del grado di approfondimento che vorremmo, ma ce n'è di più, ce n'è di più perché nel museo della Grande Guerra, che noi intendiamo spostare, come le dicevo, in città, lì realizzeremo il museo del Medioevo. Ecco, quindi gli spazi in castello che oggi sono occupati, anche dove si trova un po' sacrificato, come dicevamo, appunto il museo della Grande Guerra, qui troverà spazio il museo proprio del Medioevo, quindi una concomitanza con la realtà del castello, una maggiore sintonia, diciamo. Ma anche con cose estremamente preziose, mi riferisco a quelle del patriarca di Aquileia, perché non tutti sanno che il conte di Gorizia era il braccio temporale, e anche il braccio armato del patriarca di Aquileia. Altro, noi il prossimo anno progetteremo per realizzare, le risorse già ce le abbiamo, per realizzare al massimo nei primi mesi del 2020, nuovi interventi in castello sempre nell'ambito della multimedialità, perciò troveremo attraverso la terza dimensione, attraverso la possibilità di far partecipare con tutti i sensi al visitatore, appunto, di quello che era il castello. Ed sono delle sensazioni, dell'esperienza nel vero senso della parola che non proveranno altrove, perciò io credo che questo avrà un grande appeal nei confronti dei cittadini, e un appeal che peraltro noi già oggi misuriamo, perché diversi sono nel corso dell'anno gli eventi, le rievocazioni storiche che vengono realizzate in castello. Scuotendo un grandissimo successo, c'è grande interesse proprio per questo tipo di rievocazione storica, ma anche insomma ludica se vogliamo, in qualche modo, perché si osservano i costumi, gli usi, le armi, eccetera, di diversi periodi storici. Brava, perciò anche culturale. È bella una cosa, abbiamo utilizzato diverse, tante associazioni, perciò da quelle certamente che fanno i combattimenti, che magari piacciono di più ai bambini, però ci sono, i giovani di queste associazioni, si vede il loro piacere, la loro passione, la loro conoscenza, ti spiegano ad esempio come vedivano lavorati in metalli, battuti in metalli, come si mangiava, attraverso che cosa, cioè davvero ci sono diversi banchetti, dove queste persone ovviamente in abito medievale, questo qui accade sia per quanto riguarda l'epoca di Longobardi, con una eccezionale associazione di romance, ma via via tutto il Medioevo fino, non fino ai nostri giorni perché il Medioevo, grazie a ciò, finisce, è già finito da ben ben d'onde. Perciò vediamo una cosa, che non soltanto piace ai bambini, ma piace tanto anche agli adulti, perché appunto c'è il piacere, innanzitutto è la location, davvero molto ma molto bella, ma soprattutto attraverso questi appuntamenti si ripercorrono, si viene a conoscenza di fatti, di abitudini, di tradizioni locali, nel vero senso della parola, di cui è difficile venire a conoscenza se non attraverso tante volte magari dei libri specializzati. Un altro aspetto è anche questo, il castello è quasi un luogo, un monofatto identitario, non soltanto della città di Gorizia, ma di un interland, si userebbe a dire adesso, di una superficie molto più ampia che va assolutamente anche oltre confine. E perciò il castello di Gorizia anche a simbolo quasi della candidatura che c'è in corso tra Nova Gorizia, oltre confine, e Gorizia come capitali della cultura europea del 2025. Io credo davvero che attraverso questo investimento, questa realizzazione, oltre che perciò fare cultura, aumentare perciò la conoscenza del territorio, noi riusciremo senza dubbio a traguardare questo estremamente ambizioso obiettivo che le dicevo, quello di raddoppiare i turisti nel nostro castello, che poi è fatto 30, come dico io, facciamo 31. Noi stiamo pensando a un biglietto unico che vedrà un biglietto unico del castello, del museo del Medioevo, il museo della Grande Guerra, chiedere, ci sarà un rapporto particolare con la Fondazione Coronini per un museo per il biglietto unico con la Villa Coronini, e a questo punto io credo davvero che Gorizia, che tradizionalmente era il mordifuggi, il turista veniva in castello e se ne andava. Oggi, nel momento in cui sarà, tra virgolette, costretto, non si costringe ovviamente a nessuno, sarà spinto, agevolato nel restare a Gorizia 4-5 ore, ci auguriamo che perciò poi consumi anche a Gorizia, vada a pranzare a Gorizia, vada a cena a Gorizia, ma o mi fermi quando mi, abbatta pure quando vuole, visto che ho fatto cenno, non sto perdendo, non so quanti tempi, quanti secondi ho. No, no, ci sono ancora alcuni minuti. Bene, perché ho fatto cenno alla Fondazione Coronini, il sindaco di Gorizia è anche presidente della Fondazione Coronini, abbiamo presentato una proposta, presentato una proposta al curatorio che è formato anche all'ultima riunione proprio con la presenza dell'assessore regionale di Torrenti, la sovrintendenza, appunto, i musei provinciali e altre persone e di fronte proprio all'ingresso dei musei provinciali c'è una casa, la casa Rassauer, bruciata alcuni anni fa per un atto vandalico che ha subito. Noi alcune risorse già ce le abbiamo, altre le stiamo cercando, appena trovate, ma parliamo di ancora 500-600 mila euro di risorse, perciò non sono grandi investimenti, noi riusciremo a realizzare una enoteca della Contea al piano terra, proprio, ripeto, di fronte al museo, e enoteca che prevederà perciò la possibilità di proporre il vino esclusivamente del Collio e del Burda, cioè c'è Gorizia come capitale morale perciò del Collio essendo una, collocandosi tra il Collio sloveno, il Burda appunto è il Collio italiano, perciò anche con gli assaggini, i crostini, non un vero ristorante. Adiacente ci sarà finalmente un luogo in cui poter offrire i gadget relativi alla città di Gorizia ma anche la ricca editorialistica sulla nostra città e sempre in chiave turistica ma anche culturale certo e 15 monolocali bed and breakfast e io credo che a questo punto questa è davvero la ciliegina sulla torta perciò un castello non soltanto che attrae ma un castello capace di attrarre e poi di portare le persone intorno al proprio territorio perché io immagino già un percorso stupendo delle persone che saliranno arriveranno in castello attraverso la salita meccanica al castello visiteranno il castello per poi scendere però per poi scendere riva d'annunzio ed entrare in quella magia che è via rastello che è la prima via realizzata intorno al 1300 nella nostra città che finiva appunto si chiama così perché finiva con un cancello un rastello che dava su Piazza Vittoria all'epoca oggi è in versione radicalmente mutata ma una volta in Piazza della Vittoria si sono i bovini a che punto siamo con la rivitalizzazione della via rastello che poi si avvicina appunto alla Piazza Vittoria quindi al cuore della città possiamo dirlo certo ecco ci sono altri accorgimenti per poter vivacizzare per poter vivacizzare un luogo bisogna consentire alle persone di arrivarci se un luogo è inaccessibile solamente alcuni potranno arrivarci ecco noi avevamo una responsabilità io credo la mia giunta morale di rivivacizzare una porzione importante della città che era quella di Piazza della Vittoria e di Via Carducci ecco una ragione in più per cui noi appena accederemo alle risorse renderemo percorribile la famigerata Galleria Bombi famigerata nel senso perché è stato oggetto di cronaca esattamente nei mesi trascorsi perché accedendo dalla Galleria Bombi ci sarà la possibilità di un nuovo posteggio privato che dovrebbe essere realizzato a breve che potrebbe assicurare intorno ai 70-80 stalli perciò un'offerta adeguata per supportare l'altra offerta cioè Via Carducci oggi ahimè Piazza Vittoria sono una sequenza di vendesi vendesi affittasi affittasi serrande abbassate bisogna però darate una cosa che Piazza Vittoria invece adesso sta rinascendo abbiamo diversi nuovi bar un ristorante abbiamo due settimane fa inaugurato reinaugurato la fontana del Pacassi stupenda bellissima riportata al suo antico prestigio splendore è davvero bella è illuminata perciò arricchisce anch'essa un'ulteriore ciliegina su questa torta della Piazza Vittoria che subirà ulteriore dei cambiamenti la parte destra di Piazza della Vittoria destinata a bar e ristoranti con fioriere su ferro battuto la parte sinistra sarà arricchita da componenti di arredo urbano cioè da grandi contenitori vasi o legno o altro o in terracotta molto grandi con un piccolo albero che consenta un po' di 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 ombra a coloro che siederanno sulle panchine che verranno realizzate agganciate a questi grandi contenitori che perciò rimarranno lì per vivacizzare la piazza ma saranno spostati nel momento in cui la piazza ci servirà per ospitare grandi eventi certamente in città non mancano perché assolutamente con la mia giunta ogni mese noi abbiamo perciò un grande evento ogni mese perciò da gennaio fino al dicembre abbiamo in continuazione i grandi eventi l'ultimo in maggio quello di Edi è storia che sappiamo ormai è un punto di riferimento sovranazionale ormai non più nazionale sovranazionale della cultura italiana ma proseguiranno una volta avevamo questo avevamo gusti di frontiere con i suoi 6-700 mila presenze oggi invece ne abbiamo in continuazione perciò in continuazione i turisti non soltanto cittadini tantissimi i non goriziani che hanno piacere attraverso queste occasioni hanno l'opportunità di conoscere il resto del territorio benissimo allora io ringrazio molto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna per essere stato con noi quest'oggi a Gorizia 7 grazie e torni presto a trovarci per raccontarci le ulteriori novità sulla città di Gorizia il piacere mio e novità ovviamente ce le sono sempre grazie grazie anche a voi che ci avete seguito e buon pomeriggio appuntamento alla prossima settimana sempre alla stessa ora sabato 2 giugno alle ore 22 al Bar Lucky Sport di Pieris le canzoni di Vasco con Allarme Rossi Rock Band dalle 19 a Rosticini originali abruzzesi grazie a tutti i grazie a tutti i Grazie a tutti.